Chiediamo di poter procedere più speditamente con la realizzazione delle opere pubbliche perché sotto i 500 mila euro i tempi sono superiori ai 4 anni. Per le opere sopra i 50 milioni di euro parliamo di 15 anni di attività che sono tempi incompatibili con il mandato di un sindaco. Quindi abbiamo chiesto delle semplificazioni soprattutto per i piccoli comuni, abbiamo chiesto di valorizzare le stazioni uniche abbaltante, le aggregazioni soprattutto tra i piccoli comuni, abbiamo chiesto la semplificazione delle progettazioni, ci sembra assurdo fare delle progettazioni esecutive per normali manutenzioni ordinarie e abbiamo chiesto di reintrodurre l'appalto integrato, la possibilità per i comuni che non hanno risorse economiche e non hanno risorse umane di poter appaltare sul progetto definitivo e non sul progetto esecutivo. Poi c'è tutta la questione dei contenziosi, abbiamo chiesto interventi normativi per ridurre il contenzioso che allungano notevolmente le procedure. Abbiamo avuto rassicurazioni su una buona parte delle richieste che abbiamo già fatto qualche mese fa.